Aveva messo a segno numerosi furti con scasso ad Arezzo e provincia. Nel mirino, tabaccherie e distributori, dopo aver colpito, fuggiva usando targhe rubate. Adesso è stato fermato e denunciato dal personale del nucleo investigativo della Polizia Municipale di Arezzo, che da giorni aveva dato il via a un'attività di indagine. Nel tempo, infatti, erano state presentate molte denunce, non solo alla Municipale, ma anche a Carabinieri e Polizia. L'uomo era solito scassinare casse automatiche di distributori di carburante e di bevande o compiere furti in tabaccherie e negozi, il tutto però con un insolito modus operandi. Per non lasciare traccia, prima dei furti, rubava sempre targhe di autoveicoli di marca e modello identici alla sua, sulla quale poi provvedeva ad applicarle per sviare le indagini. Ma è stato fermato nella zona dell'ospedale San Donato dagli agenti della Municipale. All'interno della sua auto sono stati trovati oggetti da scasso e le ultime targhe che aveva rubato per compiere furti. Tutto è stato posto sotto sequestro. L'uomo è stato denunciato per furto con scasso, ricettazione e detenzioni di oggetti atti allo scasso. Adesso sono in corso ulteriori approfondimenti per accertare se abbia agito anche fuori dalla provincia eretina, in particolare in alcune località turistiche nella costa tirrenica.